Conservare la comunione all'interno delle chiese particolari lo ha chiesto il Papa nell'udienza di sabato mattina al cammino neocatecumenale. La comunione è essenziale, ha detto il Papa, e a volte può essere meglio rinunciare a vivere in tutti i dettagli ciò che il vostro itinerario esigerebbe per garantire l'unità della comunità ecclesiale di cui dovete sentirvi parte. Una seconda indicazione è stata l'attenzione al contesto culturale nel quale si opera in missione. Infine il Papa si è raccomandato di avere cura sempre degli altri. La libertà di ciascuno non deve venire forzata, si deve rispettare chi cerchi fuori dal cammino neocatecumenale altre strade di vita cristiana. Comunque portate sempre il Vangelo a tutti. Ha concluso Papa Francesco.